Il 17 febbraio 1992, alle 6 del pomeriggio, i carabinieri di Milano arrestano un personaggio sconosciuto che si chiama Mario Chiesa, il presidente del Piovergo Tribulzio. Sembra una storia di mazzette come tante e invece è lo sparo di Sarajevo da cui comincia la storia di Tangentopoli. È una storia molto raccontata, la storia di Mani Pulite e delle inchieste. Quello che invece non è mai stato raccontato è la storia della fine della Prima Repubblica. I partiti che sembravano invincibili, che avevano governato per decenni, spariscono nel giro di pochi mesi. Tra attentati mafiosi, arresti, forche sventolate nelle aule parlamentari, monetine, suicidi. La fine di un regime più degna di uno Stato autoritario che di una normale fisiologia democratica. E che infatti non porta alla fine al cambiamento e al rinnovamento della classe dirigente, ma alla sua trasformazione, alla sua trasfigurazione con l'ingresso in scena dell'uomo nuovo che fonda il partito del tricolore al posto delle vecchie sigle. Il mio libro è la storia di questa fine, l'eutanasia di un potere, simile ma unica alla fine di tanti regimi. È la storia di un pezzo d'Italia che non è stato ancora raccontato, quella che prima del resto di Mario Chiesa si era già battuta per un cambiamento, la rivolta della società civile e anche la spinta contro i partiti romani che si agitava nel nord Italia che prendeva forma con il voto della Lega. È la storia di quello che c'è stato prima e di quello che c'è durante quei mesi nel Palazzo Romano. è un mondo che muore attraverso le voci dei protagonisti, le loro testimonianze, le loro lettere, le loro lamentele, le loro sconfitte. E poi capire come è finita la prima Repubblica significa anche capire come sta finendo la seconda. Nell'ultima parte del libro si tenta qualche pista di interpretazione e si cerca di capire se quella fine del 92-93, quello che per alcuni è un mito e per altri è una dannazione, la fine catastrofica di una classe dirigente, sia un evento che si può ripetere ancora e cosa resterà. Capire cosa è successo vent'anni fa per cercare di capire come sta finendo oggi la seconda Repubblica e qual è il futuro che ci aspetta.